Guidare la macchina col volante a sinistra come da noi, quando arrivi in Inghilterra e guidi a destra, è un casino. Cioè il cervello è plastico, si adatta. Uscire dalla zona di comfort è la prima grande opportunità per contattare emozioni nelle quali noi non siamo tanto abituati. Questo è il suggerimento per la prima attitudine mentale che vi consiglio di imparare della sessione di oggi. È un primo concetto, vi sembra chiaro? Uscire dalle zone di comfort è buono, è sano. Delle volte è fastidioso, se lo alleniamo noi per primi ci fa bene. La prima volta che vi siete iscritti o che avete frequentato una lezione allo show non era comodo fare gli esercizi che avete imparato. Quando vi cambiano una scheda non è comodo fare sequenze nuove. Quando dovete fare una performance rispetto alla quale non sapete se riuscite non è comodo tentare. Ci siete? Vi rinforzo meglio questo concetto con un messaggio che è questo. Questo è un atleta, io ho un fratello che è allenatore di nuoto a Treviso. Questo è un suo atleta, non so se avete mai visto questo personaggio recentemente, adesso lo si vede in televisione, si chiama Manuel. Manuel applica un principio senza sapere, avete studiato psicologia, sapete la sua storia? Gli hanno sparato il 16 di febbraio l'anno scorso e quindi è rimasto in sede a rotelle. Ragazzi di 19 anni, è una storia nella quale la motivazione, con cosa che fare? Non potrà più andare alle Olimpiadi, quest'anno dovrà fare le Olimpiadi di Tokyo, ci andrà ma come para Olimpiadi. Ma l'atteggiamento di pensare fra dieci anni c'è una rara remota possibilità che forse le neuroscienze e la nuova chirurgia potranno forse camminare, ma è un milionesimo di probabilità. Lui sai che cosa sta pensando? Può focalizzarsi nella zona di comfort, tutti gli schemi che aveva prima, oppure può uscire dalla zona di comfort e allenare modi di pensare, modi di percepire se stesso in una dimensione alla quale non è abituato. Lui che cosa ha scelto? Invece di stare nella vecchio schema, ha scelto di tuffarsi mentalmente, emotivamente, nella nuova dimensione. Non so se vi è chiaro, è un esempio più pratico di un principio drammatico nel suo caso, incrociare le mani non è drammatico, ma lo schema da capire qual è. Il segreto è far allenare il cervello a esplorare potenzialità dove noi non siamo abituati a stare e ascoltare cosa ci succede dentro di noi. Secondo quale principio? Che se ci conosciamo meglio, se usiamo i principi di cui stasera faremo menzione, nel mio caso sono tre, scopriremo che ci sono tre grandi leve, tre grandi energie, tre grandi sostanze che il nostro cervello produce quando noi abbiamo il coraggio di entrare in questa zona di scoperta di noi stessi. Scoprire noi stessi, esplorare noi stessi, diventare curiosi della nostra personalità e andare a vedere che cosa c'è oltre quello che abbiamo sperimentato finora. Vi è chiaro il messaggio? Si chiamano tre frecce magiche. Io le chiamo le tre frecce della biochimica del cervello. Il cervello produce delle sostanze magiche se noi lo alleniamo a produrle. Quelle sostanze in sequenza producono motivazione. In particolare, che tipo di motivazione? Quella motivazione che io considero la più importante di tutte, perché ci sono due tipi di motivazione. Se io a mio figlio voglio che studi e gli faccio un regalo dicendogli se sei bravo a scuola ti regalo una bicicletta, che cosa gli sto dicendo? Che avrà un premio se si impegna in una cosa. Lui che cosa fa? Sembra motivato a fare lo studio, ad impegnarsi, potrebbe impegnarsi nello sport o in un'altra disciplina, se riceve un premio. E quel premio si chiama apparentemente motivazione. Che caratteristica ha? Il piacere arriva dall'esterno. Piacere che arriva dall'esterno, motivazione, cosa succede? Il cervello accende degli schemi di comportamento e dei desideri. Ma quella motivazione, premio che arriva da fuori, che caratteristica ha? È che è necessario che ci sia una sorgente esterna che dà che cosa? Promesse. Promesse, promesse, promesse. Mi seguite? La promessa che arriva dall'esterno si chiama dall'esterno, estrinseca. Sembra motivazione, ma nell'accezione di cui parleremo stasera non la chiamiamo motivazione, giusto per non confondere le idee. Gli diamo un altro nome. Incentivazione. Ci siete? Incentivazione accende, sì. Quando c'è uno da fuori, che accende. Ma quello che sta dentro, che è mio figlio, potrebbe restare spento, a meno che non ci sia uno che continua a mettere diavolina sul fuoco per accendere. Non sa accendere. La motivazione di cui parliamo stasera è quella che invece viene da dentro e che da dentro va verso l'esterno. La motivazione si chiama in questo caso da dentro, intrinseca. La motivazione intrinseca la chiamiamo la motivazione di questa sera perché è quella che fa la differenza nella vita, nello sport, nel lavoro, nelle relazioni umane, con se stessi. La motivazione intrinseca è la passione della quale io sono divulgatore e che mi piace allenare prima di tutto su di me. E una persona intrinsecamente motivata, che caratteristiche ha? Una caratteristica semplice la si vede dal cervello. L'emisfero sinistro e destro sono in relazione fra di loro. Non so se vedete che in questa immagine ha l'emisfero sinistro, che è quello della razionalità, del pensiero, degli obiettivi, della pianificazione, dell'organizzazione, dell'essere ben strutturati. L'emisfero logico ha bisogno di avere acceso l'emisfero di destra, che come vedete ha un colore, un'energia espansiva che contagia il mondo esterno. L'emisfero destro è quello dell'immaginazione, è quello delle emozioni, è quello della fantasia, è quello del sentimento, è quello della attivazione di tutto l'organismo. Il sinistro pensa e il destro si emoziona. Quando due emisferi sono in relazione fra di loro, noi diciamo che ci sono quelle tre frecce che stanno lavorando per noi. Dopo vi darò il nome delle tre frecce. La motivazione intrinseca ha a che fare con accendere l'emisfero destro. Ci siete? Naturalmente vi domanderete come si fa ad accenderlo. Cosa vuol dire avere l'emisfero destro acceso? Vi do un esempio pratico. Voi avete visto il film L'attimo fuggente? L'attimo fuggente è un film che spesso le persone che hanno visto ricordano questo professor Keating, avete presente? Quello che insegna l'inglese? E insegna l'inglese in un modo non convenzionale. Fa strappare una pagina dell'antologia, fa tirare dei calci ad un pallone, fa recitare un ragazzino imbranato e timido di fronte ai suoi compagni di classe, gli fa inventare una poesia. Cioè attiva che cosa? Non del sapere ripetere delle cose, ma del sentire, cioè percepire, entrare in contatto uscendo dalla zona di comfort, non solo col pensiero ma con le emo. Le emozioni sono il carburante della motivazione, dove abitano? Nella parte del cervello destra, dove c'è la emotività. E le emozioni, noi ce le abbiamo sempre, è che delle volte non le contattiamo, le lasciamo lì da sole e non le usiamo come carburante di energia. Le emozioni sono il segreto dell'accensione dell'emisfero destro. E che cos'è che attiva le emozioni? Oggi vedrete tre, quattro strumenti che tutti possiamo applicare nella quotidianità e che ci aiutano a stare in contatto con la parte emotiva. Perché la parte emotiva è il segreto della motivazione intrinseca. Emozionarsi. Emozionarsi non solo con situazioni e stimoli dall'esterno, ma emozionarsi dall'interno. attivare la propria parte emotiva, il segreto di cui stiamo parlando e che potrebbe essere una sana disciplina da iniziare a qualunque età. Si può iniziare ai ragazzini, io lo sto facendo con mia mamma che ha 85 anni e che sta schivando la sedia a rotelle cercando di emozionarsi su fare dei piccoli semi-scot sulla tavola dove sta seduto a tavola perché ha un grosso problema al deficit motorio e sta purtroppo affrontando a 85 anni una fase delicata della sua vita. Eppure vedo che lei gioisce della sua capacità di affrontare un problema semplicemente perché riesce, a differenza di prima, ad accendere con più grinta il suo emisfero destro. E questo è una cosa bella che si può applicare in qualunque situazione, in qualunque contesto. Quindi è sempre buono darsi questa opportunità a prescindere dal contesto di riferimento. La motivazione, secondo me, ha a che fare molto col saper tornare in contatto col bambino interiore che c'è dentro di noi. Perché chi è che si emoziona? Il bambino dentro, la bambina che abbiamo dentro. Cioè, tornare a sognare, tornare a giocare con noi stessi, tornare a sorridere, tornare a metterci in gioco, tornare a percepirci. Chi si percepisce, come fa questo Manuel, riesce ad avere una visione positiva di un contesto negativo. Un altro molto, molto conosciuto è Alex Zanardi. Avete presente? Anche lui, nuotatore, triatleta. Anche lui atleta. La sua metafora è sfiga con la G o sfida? Basta cambiare una consonante. È un esercizio mentale con il quale cosa potrebbe emozionarmi qui? Invece di pensare a tutto quello che non ho più. Cosa posso pensare? Che invece ho e che posso gustarmi e godermi? Cioè, la capacità del cervello è di essere focalizzato sulla situazione che sceglie di focalizzare, di metterci l'attenzione. Noi siamo in grado di scegliere su che cosa, pensare su che cosa focalizzarci. Ciò che ci emoziona è una libera scelta. E la tecnica per riuscire a fare questo ha a che fare con questo schema che vi faccio vedere. Cosa c'è nella nostra personalità? Ci sono tre dimensioni. Questi individui di cui vi sto parlando, un altro con cui ho fatto un lavoro straordinario si chiama Andrea Stella ed è figlio del titolare della Estel Mobili per ufficio che è un mio cliente di Tiene che è rimasto paralizzato esattamente con gli hanno sparato sedia a rotelle da quando ha 24 anni. Oggi ne ha 39. È un architetto incredibilmente motivante. Ha costruito una barca a vela, anzi un catamarano gestito tutto da un equipaggio di ragazzi in sedia a rotelle. Si è immaginato una cosa di questo tipo. e che cos'è che ho scoperto e mi ha insegnato? Che i pensieri la Pumberg sono una cosa che tutti noi abbiamo e che delle volte lasciamo che prendano sopravvento senza gestirli. I pensieri quando noi non li scegliamo che cosa fanno? Prendono sopravvento e decidono loro dove portarci. Avete presente? Si chiama ruminare. Avete presente i ruminanti? Detto anche rimuginare in termini tecnici. I pensieri se non li scegliamo e non li pilotiamo che cosa fanno? Vanno dove vogliono loro. E dov'è che vanno? Generano delle emozioni secondo la loro propensione che noi consideriamo abituale perché sono pensieri e quali siamo schemi mentali a cui siamo abituati e che cosa fanno? Producono delle emozioni. Dove abitano le emozioni? Le emozioni non sono nella parte in alto della nostra personalità. Come vedete questi pensieri hanno a livello di energia solo il 10% della motivazione. Le emozioni dove abitano? È subconscia. Questo è il conscio. Qui abbiamo subconscio. E lì le emozioni che cos'è che fanno? Le emozioni producono energia. Energia. Tenete presente che le emozioni sono solo o positive o negative non ci sono emozioni neutre. Non esistono emozioni neutre. Le emozioni positive gioia e sorpresa sono solo due. Immaginate gioia e sorpresa rosse. Poi ci sono quattro emozioni invece col segno meno che non sono negative perché dobbiamo evitarle. Sono negative perché ci fanno fare delle azioni intelligenti per proteggerci o per difenderci o per cambiare comportamenti. Le emozioni negative che sono quattro sono la prima la paura. Un'altra emozione negativa è la rabbia. Un'altra è il disgusto fastidio. E poi c'è la quarta che è la tristezza. Avete presente? Rabbia, disgusto, tristezza. Con quattro emozioni negative e due positive si fanno tutti i colori dei sentimenti. Stati d'animo. Ora, le emozioni sono nel subconscio e noi tutti ce le abbiamo. Saperle contattare e usare è molto utile. È molto potente. Sotto all'emozione vedete che abbiamo sentimenti. Ora, dal punto di vista della motivazione la cosa importante è allenarsi a collegare questi tre livelli fra di loro. Questi tre livelli se sono collegati fra di loro producono quelle tre frecce che abbiamo visto prima. Collegare i pensieri alle emozioni e collegare le emozioni ai sentimenti. Questa è una disciplina. Una disciplina che si chiama congruenza. I miei pensieri li scelgo e li oriento e degusto le emozioni che provano. Le emozioni che io genero le vado a intercettare e le accolgo senza giudicarle. Senza giudicare le emozioni inizio a stare nelle emozioni. E questa è una tecnica sulla quale oggi prendete degli appunti o capite dei concetti. Gli esercizi che noi vi proponiamo se avrete la costanza di farli sperimenterete che un conto è aver capito e un conto è sperimentare e toccare con mano. Siccome io li faccio da tanti tanti anni ne ho tratto un grande beneficio e la cosa bella è che la motivazione cresce perché tu impari a disciplinare i pensieri e a collegarli alle emozioni. I pensieri che si collegano alle emozioni fanno amicizia fra di loro. Il famoso emisfero sinistro vi ricordate pensieri che fa amicizia con l'emisfero destro. Ora quando i pensieri fanno amicizia con le emozioni che ci sono sotto e io stabilisco dialogo tra loro e alleno il dialogo si chiama il dialogo intrapersonale la parte cognitiva pensiero e la parte emotiva non so se sapete che le emozioni abitano sotto il diaframma ve l'hanno mai detto? Dove abitano le emozioni? Pancia stomaco e pancia giusto per spiegarvelo meglio com'è che funziona questo dialogo? Quando io dico una persona mi sta un po' qua avete presente? non è che diciamo mi sta qua mi sta qua ma se la cosa è grave cosa diciamo? Mi sta qua più giù vai non mi hai detto però l'hai pensato delle volte o l'hai sentito non hai avuto coraggio di dirlo? Sta di fatto che le emozioni vedete il diaframma che abitano qua se noi dialoghiamo e facciamo amicizia e coltiviamo quella che si chiama dialogo intrapersonale la motivazione germoglia come naturale conseguenza questa è la buona notizia la motivazione intrinseca deriva dal dialogo tra queste due parti e tutti gli esercizi che allenano questo dialogo sono buoni perché portano verità anche se all'inizio quando fai questi esercizi non hai quella motivazione della serie adesso esco fuori spacco il mondo se figo che sono e sono diventato un supereroe sperimenti una uscire dalla zona di comfort che un po' alla volta germoglia che cosa? quella nuova attitudine quella parte della tua personalità che non hai ancora conosciuto bene e quindi all'inizio non dovete confondere motivazione con ta botta di energia e sono tutta un'altra persona la motivazione è come coltivare una pianticella bisogna seminarla bisogna innaffiarla bisogna curarla bisogna potarla e prima che faccia germoglio la motivazione intrinseca mette le radici sotto terra e le radici non si vedono e allora in quel momento hai fede che stia mettendo radici degli esercizi che sono quelli che sul momento ti sembra non siano così potenti e cratanti non so se vi è chiaro tutti gli atleti vincenti oggi allenano la mente tutti Federica Pellegrini in cruzi tutti che cosa fanno? training mentale non è altro che fare uscire dalla zona di comfort e immaginare un gesto tecnico da fare meglio immaginare una performance e un coordinamento tecnico da imparare immaginare un risultato e l'aver fiducia di riuscire ad avere un risultato importante qualificarsi alle olimpiadi andare in finale alle olimpiadi andare sul podio alle olimpiadi vincere le olimpiadi sono tutte tecniche con le quali si allena la capacità di creare fiducia nella parte destra del cervello ma noi possiamo farlo nella vita quotidiana ci sono tantissimi medici oggi che insegnano i pazienti a non essere più pazienti che è quello che porta pazienza participio presente di pazientare essere persone e attivare nel sistema tra virgolette immunitario e nel sistema psico-neuroimmunologia si chiama attivare l'impatto della psiche su soma psico-somatico cioè generare esperienze di fiducia facendo sì che la chimica del corpo segua gli stimolatori della chimica che sono attivazioni che fa il sistema nervoso cioè ci sono le neuroscienze che sanno queste cose adesso parlo di cose un po' complicate ma tradotto in pratica sono grande sponsor per i miei figli in primis e per tutte le persone che incontro che il dialogo intrapersonale porta motivazione questa è la promessa che vi posso fare quindi quando dopo farete qualche piccolo sperimento ricordatevi che al di là dell'impatto che ne avete stasera serve per assaggiarlo e poi scegliere lo assaggio e poi lo preparo lo condisco nella mia quotidianità perché sono cose che richiedono poco tempo ma la cosa importante è con che regole le applichiamo il dialogo intrapersonale fa un regalo straordinario che è scritto in rosso che regalo fa se lo coltivi regolarmente vedete cosa c'è scritto sentimenti perché nella parte profonda della nostra personalità abitano non le emozioni delle cose ancora più nobili per noi primati e voluti esseri umani che abbiamo un particolare cervello dotato di sistema limbico noi abbiamo dei sentimenti che possiamo addirittura apprezzare tanto se li riconosciamo e ci stiamo con i nostri sentimenti sotto le emozioni ci sono sentimenti il più nobile dei sentimenti per la psicologia di noi esseri umani è il sentimento che abbiamo verso noi stessi si chiama autostima rispetto di me stesso apprezzamento di me stesso non della mia apparenza dei miei performance dei miei risultati che si chiama l'ego che pure è utile ed è sano non è che non sia necessario l'importante è saperlo orientare disciplinare e non esserne condizionati qual è il sentimento che ho per me chi è la persona più importante della mia vita è facile da dire ma coltivare questo corteggiamento questa amicizia questo dialogo questa convivenza questa solidarietà questo modo di stare con noi stessi nella nostra pelle è il modo si usa nella psicologia non solo motivazionale ma anche in terapia per riuscire a stare bene con se stessi non è sufficiente avere dei buoni intenzioni è necessario coltivare questa relazione è esattamente come la fai con un bambino esattamente come lo fai con un'altra persona la persona che sei tu la motivazione intrinseca quindi di cosa è fatta di sfumature di attenzione di dettagli è fatta di dedicare del tempo dello spazio della sensibilità a stare in armonia in dialogo con noi stessi e questo che sicuramente è nella vita di tutti i giorni una buona intenzione siamo bombardati di stimoli di cui il più grave dal mio punto di vista dopo la televisione è social network gli schermi e tutto ciò che è virtuale ci sta portando fuori dalla percezione e dobbiamo essere consapevoli che siamo di una droga così drogati tant'è che sostituiamo quei tre neurotrasmettitori quelle frecce invece che produrle noi ce le facciamo produrre più velocemente rapidamente dall'ambiente siamo intrisi di rischi dal punto di vista di stimoli che perdiamo la capacità di fare silenzio sono riuscito a spiegarmi secondo voi ho detto una cosa un po' facile da dire difficile da mettere in pratica io per primo cerco di allenarla quindi qual è il sentimento più importante di tutti se seguiamo questo approccio della motivazione il sentimento di autostima Dante l'ha scritto così bene nella divina commedia che io non riesco a fare meno di citare una sua frase ispiratrice fatti non foste per vivere come brutti ma per seguire virtute e conoscenza ok è di una potenza micidiale ascoltare bene il significato perché il brutto che cos'è è quello di cui che pensa si abbrutisce di duro di lavoro di lavoro per sopravvivere cioè che pensa alla sopravvivenza e che si occupa solo di che cosa di salvaguardia di quella cosa che è soma sopravvivenza cibo mangiare lezione cioè l'animale infatti non foste per vivere come brutti ma per seguire virtute cos'è la virtù immaginazione scelta sognare vedere in alto e ispirarsi e lasciare che le emozioni prendano sopravvento perché loro ti suggeriscono loro vengono a galla loro parlano a te se tu le ascolti se tu ci stai in silenzio i pensieri le emozioni che fanno amicizia ispirano ti fanno respirare col diaframma in un altro modo e ti fanno vedere quello che c'è intorno a te compreso i problemi come opportunità ecco perché quel ragazzo a 19 anni vede la sua vita il suo dramma come un'opportunità infatti non foste per vivere come brutti la virtù e la conoscenza è qual è il mio sogno quali sono i sogni quali sono i desideri che affiorano da dentro e la conoscenza come faccio a farli come faccio a riuscire come faccio a rimboccarmi le mani che attivare energie comportamenti attivare nuovi schemi imparare da chi e fare che cosa studiare piuttosto che confrontarmi piuttosto che copiare qualcun altro come faccio quella è la conoscenza la persona che cerca è perché dentro ha dato spazio alla emozione che prende il sopravvento e l'istinto il subconscio e l'inconscio gli suggeriscono questo è buono per te è andato ad ascoltare parti profonde di sé fare questa esperienza aiutare i bambini a farla il professor Keating aiutare i suoi studenti a innamorarsi della poesia non a prendere dei buoni voti a innamorarsi della poesia mi seguite? aiutare noi stessi quando facciamo una routine di esercizi la possiamo fare per dimagrire la possiamo fare per tonificare la possiamo fare per correre più veloci la possiamo fare per avere l'eretrocardiogramma migliore ma la possiamo fare anche per sentire l'emozione di quegli esercizi e sentire il mio corpo che diventa più consapevole benefici che ho mentre la faccio sentire il dialogo con le mie emozioni questa scoperta questa sensibilità si può allenare non so se vi è chiaro vi è chiaro? io sono fautore che questa amicizia con noi stessi in tutto quello che facciamo quando mangiamo quando siamo con una persona quando guardiamo film quando leggiamo quando facciamo attività fisica si può fare in tutte le cose chiaramente è una scelta è un modo di sentirci di stare con noi stessi che si inizia a fare con dei piccoli aspetti si può fare i degustatori delle proprie emozioni in tutti gli scenari della vita degustare le emozioni io dico possiamo diventare tutti un po' dei sommelier della nostra subconscio e se diventiamo sommelier più gustiamo il vino e più ci piace diventare degli esperti degustatori la motivazione intrinseca quindi ha a che fare con riuscire a fare questo e dare a noi stessi dei feedback che cosa sento? questo è un feedback questo è un feedback che scoperta faccio di questo? sorpresa gioia sorpresa piccole gioie piccole sorprese degustare feedback è la parola chiave ricevere e darsi dei feedback andando a diventare sensibili sentire di più noi stessi ci invita inconsciamente a sentire di più gli altri perché noi portiamo agli altri l'attitudine che sviluppiamo verso di noi questo me l'ha insegnato la vita lo dicono i libri ma la vita me l'ha insegnato quello che tu alleni verso di te senza rendertene conto poi lo porti in modo automatico di più verso gli altri chi? scegli di tu gli altri ma di sicuro tutti noi abbiamo figure affettive molto importanti nella vita siamo animali sociali per quello poi abbiamo una vita di relazione professionale poi abbiamo una vita di relazione extra professionale ambiente sociale le amicizie ma noi portiamo al mondo l'energia il contatto che abbiamo con noi stessi e questo cambia e ci nutre reciprocamente feedback è così importante perché ti accende il cuore ti mette in contatto con la tua identità ti mette in contatto col sentimento più nobile che è te stesso e quando io mi occupo di questo aspetto cos'è che sento? che scoprire il sentimento che ho per me stesso e riuscire questo sentimento a gustarmelo e a portarlo nelle relazioni con gli altri provo una percezione molto forte di quando sono in contatto col cuore come la chiamereste voi la percezione di quando sei in contatto col cuore? che sensazione è? quanto ci hai messo a dirlo? concitta ci hai messo un secondo gratitudine vi è chiaro? siete d'accordo? gratitudine ora vi ricordate le tre frecce? guardate che ce n'era una rossa e due gialle passo adesso la parola ad Anna Maria perché la mia esperienza è la cosa più bella quando si è motivati a tre livelli e si allena allineamento pensieri emozioni sentimenti è che in alto si fa scelte scelte la scelta dei pensieri qualche cosa che è buono per me su cui desidero essere migliore desidero cambiare desidero essere più efficace desidero fare un passo in avanti desidero fare un cambiamento ci siete? tutti noi nella vita a seconda delle fasi abbiamo magari una motivazione quella è una scelta è un pensiero emozioni che ci sono sotto vedremo qual è la tecnica per emozionarsi su quella scelta vi ricordate? ma quando la scelta è nitida il mio cervello produce in anticipo un neurotrasmettitore si chiama così il neurotrasmettitore pensiamo ad una cosa la immaginiamo ed è buona per noi il nostro cervello inizia a produrre dopamina cos'è la dopamina? è una molecola che produce piacere piacere non perché quella cosa l'ho ottenuto ma perché quella cosa la focalizzo e la mia mente focalizzandola a piccole dosi più mi focalizzo più mi focalizzo più mi focalizzo più produce questa sostanza che produce piacere e il cervello produce piacere in anticipo prima ancora di avere il risultato ecco perché gli atleti allenano la visualizzazione ci siete? vedere il risultato vedere l'obiettivo immaginare l'obiettivo è una scelta è un pensiero dopamina ma se questo esercizio lo faccio ascoltando che emozioni provo nel vivere in anticipo la cosa che desidero che succeda e mi coinvolgo come se la cosa in realtà fosse già vissuta la parte inconscia e subconscia della mia personalità produce un secondo neurotrasmettitore che dà rinforzo alla dopamina la dopamina è quella del pensiero della scelta sotto vi ricordate l'iceberg dove sotto ci sono le emozioni le emozioni che ci sono sotto non fanno altro che aggiungere la produzione di un secondo neurotrasmettitore che si chiama serotonina cos'è la serotonina? è la molecola della supporto dell'incoraggiamento del tifo della carica del calore umano del sostegno posso farlo a me stesso il tifo? posso dare sostegno e dare messaggi positivi a me stesso? posso essere in contatto con la voglia di dire ci sono io che faccio il tifo per te ecco che il pensiero e la parte inconscia fanno amicizia perché elaborare e sentire a livello subconscio significa percepire che cosa succede quando io mi immergo nell'obiettivo che ho mi immergo nella sfida che sto cercando di realizzare mi coinvolgo così tanto da entrarci dentro e vivermela già in anticipo quella è un'esperienza potente che produce serotonina fin qua ci siete? la cosa più importante di tutte poi è quando arrivo alla parte più profonda che è inconscio là sotto giù cosa c'è nell'inconscio? nell'inconscio c'è quella scritta che era sentimento lì c'è la gratitudine la gratitudine che cos'è? quando ce la faccio quando ottengo risultato quando mi ci avvicino da dire sta andando nella direzione che io volevo e sento che dentro di me si crea una sensazione di fiducia avete presente la fiducia? sentimento di fiducia beh lì in quel momento produciamo un terzo neurotrasmettitore che è quello rosso vi ricordate la freccia rossa? quella si chiama ossitocina l'ossitocina è dieci volte più potente della serotonina che è dieci volte più potente della dopamina che cos'è? l'ossitocina tutte le mamme sanno cos'è l'ossitocina che è quella neurotrasmettitore che ci fa proteggere il cucciolo appena nato e ci fa dare tutto l'amore che possiamo è il neurotrasmettitore di Dante fatti non foste per vivere come brutti è quello dell'orgoglio della fierezza della gratitudine ma cosa c'è di più bello di essere grati a se stessi? sono orgoglioso e fiero edo di come hai lottato combattuto conquistato desiderato io e te siamo amici noi due insieme siamo un team questa è la motivazione intrinseca vivere in questo modo Manuel sta vivendo così Alex Zanardi che è un mito vive così un altro che io cerco di studiare di ascoltare ci ha lasciati ma ha dato segno di cosa vuol dire stare 27 anni in galera a vivere così è Nelson Mandela un altro che ha vissuto così è Gandhi un altro che ha vissuto così è Martin Luther King scegliete voi a chi vi volete ispirare ma ci sono tantissime persone nella vita di tutti i giorni a cui prendere spunto è andare in scia di qualcuno che questa motivazione intrinseca non solo l'applicata la dimostra e magari ce l'abbiamo nella vita quotidiana senza scomodare personaggi famosi noi tutti possiamo scegliere di rispettare questi principi non so se vi sembra chiaro il messaggio e questi principi quando noi li rispettiamo succede che cosa? che anche se all'inizio non succede subito cresce sempre cresce sempre l'effetto dell'essere in amicizia con se stessi la gratitudine a se stessi è il sentimento col quale possiamo affrontare anche le prove più difficili le più difficili naturalmente io che contarvi questo sono uno ancora apprendista sulla materia che insegno e a tutt'oggi sto affrontando momenti molto impegnativi nella mia vita personale quindi non vi sto dicendo né che è facile né che non ci sono difficoltà ma la cosa bella è che hanno sempre un senso nobile perché? perché anche le difficoltà ti fanno sentire che la fierezza che è l'elemento più potente per essere motivati è una cosa che ti pulsa da dentro e ti fa sentire nobile quel sano orgoglio che ti fa dire vale veramente la pena di vivere con questo tipo di motivazione da dentro intrinseca concludo questa sessione passo adesso la palla alla mia collega Anna Maria facendo un ragionamento molto pratico di tre di cinque accorgimenti che aiutano ad andare in questa direzione sono solo delle semplici equazioni vi sembreranno un po' strana la prima guardate là in alto la prima cosa è creare una R relazione con chi? con se stessi la relazione con se stessi vedete che è rossa la R di relazione è più importante di qualunque contenuto il contenuto non è l'argomento che motiva non è se vado o non vado alle olimpiadi è che cosa ho fatto di me per riuscire a ottenere il meglio è la relazione che ho costruito con me per quella conquista la relazione è sempre più importante del contenuto Manuel non andrà alle olimpiadi andrà alle paro olimpiadi Zanardi non corre più in formula 1 la relazione con se stessi è più importante dell'oggetto in sé è la relazione che sviluppo con me l'aspetto importante vi è chiara la prima? vado con la seconda? il corpo è l'elemento della mia motivazione col quale mi metto in gioco per essere motivati è necessario che il corpo sia acceso energia col corpo coinvolgersi col corpo è stati fisicamente non solo col pensiero è necessario agire e per agire è il corpo che agisce le parole contano le buone intenzioni contano la P di parole ma quello che conta è la motivazione si fa col corpo è il corpo che ci dà la prova di quanto siamo motivati lo sguardo avete presente una persona motivata? sguardo sguardo acceso postura una persona motivata che postura ha? come faccio per esempio per automotivarmi e darmi la carica prima di fare una routine di allenamento? se sono spento e se sono svogliato se invece mi do la carica e mi carico emotivamente avete presente gli atleti che si danno addirittura degli schiafi che si auto toccano per dare attivazione energetica guardate un giocatore di tennis che rituali ha prima di fare un tiro e che tipo di autoattivazione fa guardate Djokovic che cosa fa ognuno ha i suoi Djokovic ho contato che fa 12 rimballine 12 cioè ho detto perché proprio 12 evidentemente l'istinto se guardate il kick nervoso Valentino Rossi non so se avete presente che cosa fa avete presente? no sto che maroni i rituali si chiamano l'attivazione del corpo sono simboli l'attivazione del corpo per noi che ci alleniamo e che abbiamo show club che ci aiuta come denominatore comune non c'è niente di più potente per essere attivati di avere il corpo acceso è vero o no che quando ci alleniamo il giorno che non abbiamo voglia finito l'allenamento siamo più motivati è vero o no produce endorfine cosa sono le endorfine? i precursori della dopamina della serotonina accendere il corpo è un segreto tenere il corpo acceso è una scelta è un comportamento motivare noi stessi significa attivarci a livello fisico poi c'è una terza legge che è quella che io adoro la F di frequenza frequenza fa la differenza un giorno sì un giorno no non è la stessa cosa che tutti i giorni i rituali la frequenza la regolarità lavarsi i denti tutte le mattine tutti i pomeriggi tutte le sere è la frequenza il segreto l'intensità non basta frequenza e l'immaginazione la I di immaginazione che conta più della volontà questa per me è stata la più potente di tutte io non immaginavo perché sono stato una mezza sega lo dico francamente non mi sono mai immaginato vincente mi allenavo col senso del dovere ma non riuscivo a accendere l'emisfero destro e quindi l'emisfero destro è stato spento per un casino di anni pur facendo sperando di vincere tanta fatica e tanti allenamenti ma li ho fatti da musso cos'è un musso? asino testa bassa baretta fracama non è che ero capace di immaginare fatti non foste per vivere come brutti immaginare immagina puoi a George Clooney mi danno un sacco di soldi per dirlo a me me ne danno molti di meno eppure dico la stessa roba lui è stato più bravo di me però adesso voglio imparare qualcosina vedere dei spot di Nescafe com'è che si fa immagina poi vi sembrano chiari i concetti? c'è l'ultimo ma questo è l'ultimo è il più potente di tutti il più potente il più potente e devo ancora diventare bravo ma sto imparando e sto studiando quindi se i principi di stasera vi interessano siamo studenti insieme io studio come voi e lo applico è questo ultimo il la P di piacere il piacere il piacere il piacere motiva molto di più del dovere se io faccio piacere una materia a uno studente quello la studia per tutta la vita ci siete? se io faccio piacere un esercizio qui c'è Vito come Vito sa far piacere degli esercizi in modo in cui gli spiega è magia se io ti faccio piacere un concetto perché sono un professore che ti spiega bene ti incuriosisco io al liceo scientifico non tanto istante da qua ho fatto il Fermi che è un liceo qua ormai ho 60 anni ho fatto 40 anni Dante 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 tre anni tre anni di Dante inferno purgatorio paradiso in terza c'è inferno in quarta c'è purgatorio in quinta c'è paradiso per me inferno tutti e tre gli anni tre ore di Dante poi all'arena di Verona il 29 settembre del 2005 Benigni racconta il quinto canto di Paolo e Francesca e io mi sono emozionato mi sono venuti brividi quando lui piangeva parlando della bellezza e cadde come corpo morto cade tramortito dalla bellezza ho detto ma Dante era un figo cosa mi sono perso cosa mi sono perso ho detto adesso studio Dante mi ha motivato a fare che cosa a studiarlo perché mi ha fatto scoprire il piacere degustare Dante degustare il piacere il cervello dell'essere umano è motivato quando prova piacere dobbiamo esplorare i piaceri nascosti nelle sfide che ci diamo e il piacere non vuol dire non fare fatica non vuol dire non avere anche del dolore della sofferenza non è la sofferenza il problema il piacere del sapore e della conquista e di tenere vivo il dialogo con noi stessi mi sono spiegato? questo piacere è magia insegnamolo a noi stessi insegnamolo ai bambini insegnamolo alle persone che sono vicine condividiamolo allo show allenarsi anche in questo modo è una figata atomica passo la palla alla mia amica Anna Maria grazie prego Anna Maria wow quanti stimoli allora vi chiedo un momento di fiducia toglietevi gli occhiali un momento per chi ce li ha vi invito ad appoggiare bene i piedi a terra entrambi posizione un po' di ascolto piccola minima vi chiedo di chiudere gli occhi proprio un momento perché sono arrivati tanti stimoli motivazione estrinseca dice Edoardo io vi invito a fare un bel respiro inspiro ed espiro facciamo qualche bel respiro così come siamo abituati cercando proprio di ampliare un po' questa respirazione cioè di respirare un pochino di più del solito inspiro un po' di più espiro un po' di più e proviamo a socchiudere la bocca un momento e ancora una volta a respirare inspirando ed espirando con la bocca inspiro ed espiro proprio con la bocca è un'esperienza sensoriale diversa energetica diversa con la bocca andiamo a ossigenare altre parti del nostro organismo e vi chiedo in questo momento di respirazione e di ascolto che cosa sento in questo momento che sensazioni ho proviamo a dare un nome alle sensazioni ed eventualmente qual è il mio stato d'animo quale può essere un'emozione che prevale su altre cosa sento sensazioni ed emozioni facciamo un altro bel respiro diamo chiaramente un nome a quello che stiamo sentendo in questo momento e vi invito ad aprire gli occhi grazie proviamo se avete voglia a condividere che cosa stiamo sentendo in questo momento qual è la sensazione l'emozione che avete prevalente in questo momento cosa avete captato rialto ampiezza pace pace tranquillità profondità quindi una sensazione di maggiore rilasciamento in qualche modo bene tutti questi stimoli che vi sono arrivati di questi stimoli cos'è che vi rimane un po' più impresso cioè che vi ha toccato di più direi e non uso a caso questa parola proprio toccato di più di tutto quello che Edo vi ha detto finora uno tra tutte il piacere il piacere come l'immaginazione come l'autostima non me ne frega niente gli altri non è un concetto astratto è proprio una sensazione quasi viene voglia di fare questo proprio il gusto qualcosa che è legato alla sensazione allora dicevamo i concetti fondamentali che ha portato Edo sono intanto il primo forte è la motivazione ha a che fare con l'uscire da zone di comfort confortevoli giusto? la motivazione ha a che fare con il cuore la motivazione ha a che fare con quella parte di noi che è il bambino che abbiamo dentro di noi quindi questa parte storica importantissima la motivazione ha a che fare i livelli dell'essere della nostra personalità diversi dai pensieri alle emozioni e ai sentimenti la motivazione ha a che fare con questi cinque elementi fondamentali queste leve motivazionali ha a che fare con il piacere io ho scelto questa immagine per pensare alla motivazione e pensare all'energia perché Edoardo ha parlato di motivazioni estrinseche quelle che arrivano dall'esterno e di motivazioni intrinseche quelle che nascono da dentro se noi guardiamo una piantina che è un esempio semplice per accedere a quella parte naturale di noi che ci vede vicini a una piantina noi vediamo che cosa che abbiamo innanzitutto necessità di stimoli esterni la luce l'acqua da innaffiare sono stimoli esterni che ci arrivano per poter perché la piantina possa in qualche modo attecchire il semi attecchire e la piantina crescere non basta però perché dalla terra prende dei elementi per poter crescere quindi dalla terra e dalla luce prende che cosa stimoli fondamentali energetici energia pura per poter crescere ma è sufficiente per la piantina questo? non è sufficiente perché per la piantina ogni piantina è a sé ognuno di noi è a sé perché tira fuori un potenziale cioè un modo di rispondere agli stimoli e di organizzare quegli stimoli che arrivano dall'esterno che è assolutamente originale è unico è nostro è quello che ci fa dire io sono unico ognuno di noi ha un modo di vivere e di organizzare gli stimoli esterni e interni assolutamente personali questa piantina può essere vista simbolicamente non solo come me possiamo anche interpretarla come ogni progetto che noi possiamo immaginare nella nostra vita ogni progetto nuovo che noi possiamo immaginare può essere un piccolo seme una piantina da far crescere qualcosa che ha bisogno di stimoli esterni esterni Edoardo li ha chiamati incentivi esterni ma che ha necessità e noi vogliamo focalizzare di più l'attenzione su quella che è la motivazione interna cioè qual è l'energia di cosa abbiamo veramente bisogno per andare ad attivare quel nostro potenziale che siamo perché già lo siamo quindi questa è l'immagine che io ho portato perché ci aiuta a vedere come sia la motivazione degli stimoli esterni sia gli stimoli interni per noi sono importanti e porto una definizione ma che cos'è la motivazione che cosa effettivamente significa questa parola motivazione che ha queste due parole motivi azione perché possa comporsi e quindi possa diventare un'esperienza partiamo da una definizione psicologica io sono psicologa quindi partiamo da questo ma in realtà lo traduciamo in un modo semplice ma fondamentale per noi la motivazione è un processo di attivazione dell'organismo finalizzato alla realizzazione di un determinato scopo in relazione alle condizioni ambientali quali sono le parole importanti secondo voi in questa frase attivazione realizzazione condizioni ambientali cos'altro scusate relazione come scopo quindi motivazione parole importanti attivazione importante la realizzazione lo scopo e la relazione e le condizioni giusto questo in sintesi quello che state dicendo parliamo dell'attivazione abbiamo necessità di attivare che cosa il nostro corpo non è sufficiente che cosa la nostra mente non è sufficiente che cosa solo il nostro cuore non è sufficiente noi abbiamo bisogno di attivare tutto il nostro organismo perché l'organismo persona ha una complessità e ha un'energia che ha necessità di attivare Edoardo parlava di congruenza quando vi delineava l'iceberg e quindi tutto quello che c'è sotto quindi questa complessità di cui noi siamo composti in realtà quindi pensieri emozioni e sentimenti quindi abbiamo necessità di diventare un po' curiosi della nostra complessità di questa ricchezza che è il nostro organismo quindi abbiamo necessità di andare ad attivare sensazioni del nostro corpo emozioni che è vero che partono dal cervello ma che noi sentiamo nel corpo abbiamo bisogno di attivare processi mentali che non ne sono solamente pensieri ma come dice Edoardo sono anche le immagini quindi c'è un mondo simbolico fondamentale necessità anche che questo organismo quindi queste parti in qualche modo trovino una direzionalità quindi trovino un modo per andare in una direzione che è appunto la focalizzazione di uno scopo ma cos'è che ci attiva? Cosa permette al nostro organismo di attivarci? Come? Il desiderio chi l'ha detto? Desiderio? il desiderio ci attiva? Un obiettivo ci può attivare? Esattamente abbiamo un'altra parola stasera da un po' approfondire insieme che è la parola energia tutto parte da un'esperienza energetica tutto quello che stiamo dicendo emozioni sentimenti scopi realizzazioni concretezza parte da un'esperienza squisitamente energetica dobbiamo immaginare l'ameba che è la cellula più semplice la prima cellula del nostro organismo in questa cellula nasce l'energia e l'energia che cos'è? è un movimento l'energia è un movimento di espansione e di contrazione questo è il movimento dell'ameba così come l'ameba produce energia e l'energia viene prodotta attraverso il movimento di apertura espansione di contrazione ritiro così ogni singola parte del nostro organismo funziona io vi ho fatto respirare qualche momento inspiro ed espiro allo stesso movimento di espansione e di contrazione tutti i nostri organi vitali funzionano così il nostro mezzo fisiologico funziona attraverso questa energia che ha due qualità essenziali è dinamica quindi si muove l'energia per potersi produrre a necessità di questo movimento ed è pulsante cioè nasce da una pulsazione naturale nel nostro organismo quindi l'energia è movimento quindi noi abbiamo bisogno di attivare energia nel nostro organismo come facciamo ad attivare energia nel nostro organismo? abbiamo bisogno di muoverci questo movimento energetico ha due sotto esperienze fondamentali cioè per muovermi in un modo salutare quindi produrre un'energia che ha a che fare con la motivazione io ho bisogno di caricare attivare e ho bisogno di scaricare quindi l'attivazione è un momento fondamentale che ha a che fare con il processo vitale dell'andare a caricare il nostro organismo ma che ha a che fare con la motivazione quindi io ho necessità di andare a caricare il mio organismo di energia se questa carica non è sufficiente abbiamo da un punto di vista sempre energetico abbiamo già una sensazione di non avere sufficiente voglia sufficiente energia sufficiente lucidità sufficiente voglia di vedere gli altri cioè sentiamo che c'è qualcosa che è sottotono per noi quindi attivarci vuol dire attivare a partire dal corpo in questo senso il movimento del corpo attraverso l'attività fisica è fondamentale qualsiasi possiamo scegliere qualsiasi nostra modalità di andare verso questa esperienza ma dobbiamo comprendere bene che è vitale muoverci che è vitale poter attivare la nostra energia che poi diventa motivazione cioè diventa quella cosa quell'esperienza propedeutica per andare verso un'esperienza motivante quindi dobbiamo ricordarci che quindi è fondamentale per noi costruire un vocabolario cioè andare a sentire le sensazioni che produce questo movimento dare un nome a quello che sentiamo perché non è scontato per noi può essere molto più semplice determinare definire i pensieri che non dare un nome ad un'emozione che non dare un nome ad una sensazione perché Edoardo diceva sentire 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 è la base fondamentale per la motivazione ma è la base fondamentale per vivere è la base fondamentale per sentire che cosa abbiamo accennato al piacere se io non vado in questa direzione avrò molta difficoltà di poter sentire qualsiasi esperienza di piacere e dargli un nome quindi l'organismo ha necessità di essere attivato secondo elemento fondamentale avere uno scopo l'energia non solo si attiva ma l'energia va quindi noi abbiamo necessità di una direzione nella motivazione altrimenti la motivazione cade velocemente nel tempo quindi andiamo in una serie di ostacoli di cui poi vi accennerò cioè gli ostacoli della motivazione quindi avere uno scopo avere uno scopo per me ha un valore un pochino di dire avere un obiettivo avere uno scopo ha un significato più ampio più esistenziale vi faccio un esempio un obiettivo può essere dimagrire uno scopo è tutto quel significato che noi diamo a quell'obiettivo perché dimagrire perché per me è importante dimagrire quali sono i motivi per cui io penso che sia così importante per me abbiamo necessità di andare a scoprire quali sono i nostri perché una volta che noi diamo maggiore significato a quell'obiettivo a quell'idea a quel progetto concreto che abbiamo allora la motivazione in questo caso come? viene arricchita di un significato perché noi abbiamo bisogno che la nostra mente abbia energia perché abbiamo un'energia psichica da andare ad attivare non basta l'attivazione del corpo stiamo dicendo abbiamo necessità di andare ad attivare un meccanismo di piacere di significato a livello mentale quindi non basta definire un obiettivo l'obiettivo è il mezzo per andare a finalizzare uno scopo mi spiego? questo è molto importante perché vuol dire riaprire un po' di significati in moltissimi obiettivi concreti che noi possiamo avere perché dietro ogni obiettivo anche piccolo che noi possiamo avere ecco che c'è dietro un significato più ampio più profondo che noi possiamo trovare ecco andare alla ricerca di questi nostri perché è fortemente motivazionale è per noi fondamentale perché noi abbiamo bisogno di dare ulteriori significati alle nostre azioni rispetto a quello che facciamo concretamente quindi può significare questo che dimagrire può voler dire sentirmi più flessibile sentirmi più forte sentirmi più bello sentirmi più a mio agio sentire che la mia autostima ha più attratto vuol dire talvolta e questo ve lo dico perché io sono una psicologa psicocorporea quindi lavoro molto con il corpo vuol dire andare a togliere difese perché l'adipe è uno strumento di difesa per non sentire quindi quando noi andiamo a togliere un po' di adipe vuol dire che andiamo a sentire di più quindi come diceva il signore andiamo proprio anche a creare una maggiore sensibilità quindi ad attivare più i nostri sensi la nostra capacità sensibile di ritrovare appunto emozioni e sensazioni altro elemento fondamentale sono le condizioni ambientali tutto questo sempre all'interno di un contesto cioè noi non possiamo immaginare di poter attivare alcun progetto alcuna forma di identità personale alcune azioni se non ci riconosciamo all'interno di un contesto il contesto è quella cornice fondamentale in cui noi andiamo a realizzare il nostro il nostro scopo quindi la nostra motivazione è importante in relazione al nostro contesto perché è questo? perché talvolta il contesto è importante cioè quelle motivazioni estrinseche avere sostegno è importante sapere di avere un luogo io lavoro all'interno dello show quindi ho scoperto un po' come è il lavoro all'interno per esempio della struttura ma sentire persone che sono lì che vogliono sostenerti e lo fanno con una certa continuità e una certa serietà sicuramente mi aiuta a poter portare avanti un certo tipo di direzionalità perché la nostra motivazione nel tempo fisiologicamente non è lineare ha delle ondulazioni che noi dobbiamo di cui dobbiamo tener conto che non possiamo sottovalutare quindi il sostegno esterno sicuramente è importante Edoardo ci dice non basta il sostegno esterno cioè non possiamo immaginare di sostituire il sostegno esterno con quel tifo che ho bisogno di andare io di andare a sostenere io perché il primo sostegno me lo devo dare io oggi oggi da adulto di fatto quindi questa capacità di sostenerci e di essere sostenuto ha a che fare proprio con le condizioni ambientali talvolta perché abbiamo bisogno di adattarci alle condizioni ambientali altre volte perché forse riusciamo anche ad andare oltre e a sfidare le stesse condizioni ambientali però non possiamo mai perdere di vista il nostro contesto quindi la motivazione ha queste tre attività importanti quindi attivazione scopo contesto avete anche colto e mi fa molto piacere la parola relazione perché una cosa non va a sostituire l'altra se noi vogliamo parlare di motivazione in modo serio davvero dobbiamo tener conto che dobbiamo metterla è che è una parola per me molto cara perché è una congiunzione una bella è attivazione e scopo e condizioni ambientali abbiamo bisogno ma dobbiamo dire che sono due le leve che attivano la il nostro organismo il dolore e il piacere non è un caso che quando noi non stiamo bene allora comincia ad accadere qualcosa dentro di noi cominciamo a preoccuparci cominciamo a fare dei pensieri cominciamo a domandarci cosa c'è da fare cioè si attiva tutto il nostro organismo sensazioni che arrivano emozioni di timore quindi il dolore ci attiva moltissimo cioè quel cervello sia la parte sinistra che la parte destra quindi i due emisferi del cervello in realtà non solo ci permettono di sentire il piacere lì dove c'è il piacere noi andiamo anche a vivere il dolore quindi parte si attiva anche il dolore quindi non siamo matti in quest'epoca che siamo prevalentemente spostati sulle problematicità giusto? abbiamo diciamo una visione forse personale ma sicuramente che arriva in modo trasversale tanti messaggi che ci dicono ci sono dei problemi c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va messaggio subliminale che ci arriva da tutte le parti secondo voi è attivante? ci attiva? certo questa è una scelta ed è una delle scelte che noi vogliamo fare di fatto ma quando arrivano i messaggi ci attiva o non ci attiva? ci attiva? sì ok quando noi abbiamo messaggi di un ambiente che non va ci attiva o non ci attiva? ci sembra scorre tutto liscio per noi o ci arriva qualcosa? ci arriva qualcosa? c'è una reazione quindi non scivola nel dimenticatoio questa cosa cioè si crea comunque un impatto d'allerta diciamo così c'è una reazione c'è qualcosa che si attiva nel nostro organismo se noi abbiamo molti stimoli nella nostra giornata di cose che non funzionano che non vanno problematiche non abbiamo tempo tutta una serie di cose cosa succede nel nostro organismo? si va in tilt comunque c'è un'attivazione comunque il nostro organismo si carica ci siamo? non è un caso che per stimoli stimoli vengono anche chiamati stressor stressor gli stimoli sono tutti stressor guarda caso che ci possono essere stressor positivi e stressor negativi quindi ci sono stressor positivi quali sono quelli positivi? quelli che in qualche modo ci attivano piacere in qualche modo giusto? stressor negativi tendenzialmente ora stiamo un pochino andando grossolanamente ma l'idea stressor negativi tutti quegli stressor che vanno a metterci in uno stato d'allerta quindi non abbiamo più tanto dopamina serotonina ossitocina no no noradrenalina corticosteroidi si attivano altre sostanze che vanno ad attivare l'organismo cosa succede? succede che tutto questo crea una zona che io chiamo di comfort sconfortevole cioè impariamo a stare in uno stress negativo impariamo a stare in un'attivazione che per noi è legata più al dolore che non al piacere ecco perché oggi Edoardo vi dice piacere ragazzi il piacere ma ricordiamoci che il piacere è motivante ma ce lo dobbiamo proprio ricordare perché se facciamo un esame ora io ovviamente sto generalizzando ma ognuno di noi fa un esame personalissimo domandiamoci ma quanto tempo stiamo sulle cose che non vanno sulle cose da risolvere sulle cose che sono veloci abbiamo ritmi veloci velocissimi che non ci permettono tanto di sentire e quanto stiamo invece in situazioni che ci permettono invece di sentire piacere dobbiamo domandarcelo perché quello che a noi interessa oggi non è far scomparire il dolore perché il dolore fa parte della vita e il dolore emotiva e il dolore talvolta ci aiuta perché diceva Edoardo ah caspita quando usciamo dalla zona di comfort andiamo a una zona sconfortevole giusto? quindi impropriamente detta un po' dolorosa cioè qualcosa che è nuova non ci piace ma quello può essere un elemento di motivazione per noi ed è fondamentale quindi ricordiamoci il dolore il piacere sono due leve fondamentali ma noi abbiamo bisogno di attivare un po' di più la leva del piacere perché può sembrare strano ma a livello culturale noi siamo abbastanza lontani da questo tema abbastanza lontani il divertimento non è l'unica forma di piacere ci sono forme di piacere che sono più profonde che sono legate all'attivazione di un organismo che si può caricare scaricare da un punto di vista energetico emotivo che è legato al sentire al manifestare al condividere al poter progettare fare cose che oggi abbiamo necessità di ritornare ad avere contatto qualcuno parlava prima diceva il desiderio quello che ci attiva in effetti è il desiderio ma non solo anche il bisogno perché il bisogno è legato al dolore il desiderio è legato al piacere il bisogno lo sentiamo quando c'è qualcosa che manca ho fame parte uno stimolo di qualcosa che ci manca vado a soddisfare lo stimolo quello è un bisogno che si attiva il desiderio non ha a che fare con una mancanza ha a che fare con qualcosa che io voglio ampliare di più io sto bene ma voglio stare meglio perché buono è diverso da meglio insegna Edoardo stare bene è diverso da stare meglio cioè il desiderio ha questa carica di aumentare di aumentare cioè di andare verso un piacere maggiore cosa significa crescere cosa significa cambiare cosa significa darci la possibilità di fare anche esperienze nuove l'evoluzione questa è una delle motivazioni esistenziali che noi abbiamo di più nella nostra vita come organismi persone conoscere evolvere e andiamo verso quella cosa che ci fa tanto paura cioè il cambiamento perché noi siamo in continuo cambiamento quindi ritornando a quello che diceva Edoardo cioè l'esercizio della della mano quando noi andiamo in una posizione nota quello è un rituale che noi abbiamo automatizzato quindi noi siamo pieni di automatismi il conosciuto le nostre famose abitudini vi spiego? quindi queste abitudini questo conosciuto ci dà una motivazione importantissima la continuità cioè noi ci riconosciamo attraverso tutta una serie di rituali che si ripetono ma se noi facessimo solo questo sarebbe completamente naturale tant'è che noi siamo alla ricerca di cambiamento il cambiamento ci motiva tantissimo quanto ci fa paura tant'è che talvolta la vita ci propone posizioni nuove scomode talvolta ce le andiamo a cercare proprio noi perché noi abbiamo bisogno di cambiamento abbiamo bisogno di nuove zone scomode perché sono sconosciute di fatto ecco che quindi la continuità e il cambiamento sono due parole fondamentali per la motivazione se noi vogliamo coltivare la nostra motivazione abbiamo bisogno di andare in questa direzione allora dato che il tempo comincia a stringere vorrei dirvi solamente alcuni ostacoli che riguardano la motivazione cos'è che ci può ostacolare in questa esperienza che vi ho detto non è lineare è un'esperienza dinamica la motivazione quindi ha necessità di consapevolezza di sostegno ha necessità di direzionalità quindi ha necessità di essere accogliata perché è un percorso di fatto quali possono essere gli ostacoli secondo voi qualcuno che vi viene in mente pensando a voi scusa paure le paure possono essere un ostacolo certo il tempo del passato in corso sì questa sensazione di fallimento cos'altro la pigrizia esattamente anche cioè possiamo avere validi motivi perché voi avete detto tutti gli elementi validissimi per procrastinare procrastinazione cioè rimandare 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 è un ostacolo importantissimo che effettivamente viene attivato da tutte queste componenti che vi avete detto dalla pigrizia alle paure alla paura del fallimento eccetera eccetera quindi la procrastinazione è un ostacolo importantissimo per quanto riguarda la nostra motivazione procrastinare aspettare il dopo non ha nulla a che vedere con la motivazione perché la motivazione è qui è ora cioè noi alla motivazione abita nel tempo presente quindi spostare in là noi stiamo facendo già un'operazione che in psicologia si dice difensiva stiamo già attivando una difesa di fatto cos'altro può essere un altro ostacolo della motivazione è non avere quel perché chiaro non avere quei famosi perché quello scopo chiaro e in memoria memorizzato questo non avere questa visione chiara è un ostacolo importante per la motivazione un altro ostacolo fondamentale è che tra il dire e il fare cosa c'è? c'è un mare ma questo lo definisco il progetto interiore cioè molto spesso proprio forse qualcuno di voi si riconoscerà molto spesso ci diciamo di volere una cosa in modo molto astratto vorrei essere felice e poi vorremmo subito le soluzioni pratiche come si fa? la domanda che spessissimo le persone mi dicono io vorrei questo ma come si fa? io vorrei questo ma come si fa? io dico ma in mezzo c'è un mare e il mare è la costruzione di un progetto interiore qualsiasi progetto esterno parte e qui ritorniamo la motivazione intrinseca parte dalla creazione di un progetto dentro io ho bisogno di avere quell'intuizione quell'illuminazione quella creazione di che cosa voglio io per me questa domanda semplice che introduce l'andare ad esperire quindi andare un pochino ad assaggiare che cosa significa questo progetto interiore dobbiamo cominciare a domandare non cosa non voglio più per me ma io cosa voglio per me davvero oggi quando non domani non ieri noi siamo protesi in avanti quindi ansie siamo protesi indietro quindi depressione e abbiamo tanta difficoltà di prenderci una responsabilità che ci coinvolge davvero ora cosa voglio oggi io ora dalla mia età in questo momento della mia vita questa è la domanda importante che ci aiuta a introdurci in una idea di progetto interiore questo progetto interno abbiamo detto non basta il pensiero dobbiamo memorizzare avere un dialogo interno chiaro che cosa voglio io per me quando dove come abbiamo bisogno di formare questo nostro progetto interiore e abbiamo bisogno di sentire che cosa ci produce tutto questo cioè l'azione esteriore è la conseguenza di un'azione interna questa energia già si sta muovendo dentro è chiaro quello che sto dicendo questo è un passaggio fondamentale perché noi lo bypassiamo tantissimo io lavoro molto con gli adolescenti ma molto con gli adulti su questo cioè andare a costruire il progetto dentro chi sono io cosa voglio per me oggi quindi questo punto è un punto molto importante perché ha necessità di poter avere strumenti qualcuno noi ora ve lo accenneremo strumenti che ci permettono io lo chiamo kit motivazionale che ci permettono di poter andare a sostenere a creare a conoscere quello che è il nostro progetto interiore quindi la prima cosa fondamentale vi invito di riaprire i vostri quaderni ci prendiamo due minuti quanti minuti abbiamo ancora pochi pochi dieci minuti ci prendiamo due minuti e decidiamo qual è il nostro obiettivo un nostro obiettivo in questo momento della mia vita ok uno quindi scegliamo intanto un obiettivo e ce lo scriviamo perché scrivere non è come dirselo dentro avete penne? c'è qualche penna per caso? quindi scegliamo in questo momento un obiettivo che abbiamo ce lo scriviamo bello in grande questo è un mio obiettivo che ho oggi in questo momento della mia vita ci siamo tutti? sì? bene ora vi chiedo di cercare almeno cinque perché perché è importante questo obiettivo nella mia vita e vi invito a scriverlo questo obiettivo è importante perché cinque motivi perché per me è importante questo obiettivo è importante Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo fatto? Sì? Bene, cerchiatene tre, i più importanti. E vi invito ora a formulare una frase definita. Io voglio, desidero raggiungere questo obiettivo perché, e inserite in questa frase i vostri tre perché che avete scelto più importanti. Quindi create una frase compiuta. Una volta che l'avete scritta, rileggetela. Quindi familiarizzate, memorizzate la vostra frase. E vi invito a lasciare tutto, quindi liberate le gambe dalle giacche. Cinque minuti di autoascolto per concludere la serata. È importante liberare dalle borse le gambe, dobbiamo essere belli liberi. Vi invito a chiudere gli occhi un momento. Ecco, trovate una posizione comoda, allineata, piedi per terra, tutti e due appoggiati. E' importante che la schiena sia comoda, diritta, ben sostenuta. E togliamo gli occhiali. Chiudiamo gli occhi. E sentiamo le gambe comode. Piedi ben appoggiati, le braccia sono libere. Mi invito a sentire come state con gli occhi chiusi. E cominciare ad ascoltare il vostro respiro. Cominciate semplicemente ad ascoltarlo, sentite il flusso della respirazione, mentre inspiro ed espiro. La testa è allineata, il mento leggermente in su per lasciare la gola libera. E vi invito ad ascoltare come è il vostro respiro. Ascoltate, se ad esempio respirate più nel petto, oppure più nella pancia. Come sento il respiro? Lo sento fluido? O lo sento un po' a tratti? Sento il mio respiro corto? O lo sento abbastanza ampio, lungo? Prendete contatto con il vostro respiro. E da questo punto di partenza, dal vostro respiro, vi invito a cominciare a respirare un po' di più. Cominciamo a inspirare, prendendo un po' più di aria, e ad espirare lasciando uscire completamente l'aria. Cominciamo a socchiudere la bocca. Cominciamo a sentire di andare a respirare attraverso la bocca. E cominciamo a sentire ad ogni ispirazione che si riempie la pancia, si riempie il petto. E poi possiamo espirare lentamente e completamente tutto insieme. Vi invito a sentire il movimento del petto e della pancia ad ogni ispirazione e ad ogni espirazione. E' espansione, contrazione, esempio e svuoto. Il movimento naturale della nostra energia. Continuiamo a respirare con la bocca socchiusa, andando proprio a coltivare e a incoraggiare questa respirazione più ampia, più lunga, che espande in tutto il corpo. Inspiro, ed espiro. Attenzione, se per noi è più semplice ispirare o è più semplice espirare. E vi invito con calma a cominciare a portare l'attenzione proprio alla fronte. Andiamo a rilassare la fronte. E ripetiamo dentro di noi, sono rilassato, sciolto, concentrato. Faccio un lungo respiro, passo con la mia attenzione alla fronte, alle sopracciglia, rilasso la mia fronte. Respiro e ripeto dentro di me, sono rilassato, sciolto e concentrato. Scendiamo ancora con l'attenzione ai nostri occhi. Andiamo a rilassare gli occhi e i piccoli muscoli. Rilasso completamente i miei occhi e ripeto dentro di me, sono rilassato, sciolto e concentrato. Scendo ancora con la mia attenzione e sento gli zigomi, le guance, la mascella e la mandibola. Rilasso completamente le mie guance e la bocca e lascio che l'aria possa entrare proprio nella mia bocca. Faccio un lungo respiro e sento l'aria scorrere nella mia gola, nella bocca, nelle corde vocali. Lascio scorrere l'aria fresca dalla bocca fino alla gola. E ripeto dentro di me, sono rilassato, sciolto e concentrato. Mantengo la bocca rilassata e socchiusa. Porto la mia attenzione al collo, all'attaccatura delle spalle. Abbasso le spalle, rilasso questa parte del corpo, faccio un lungo respiro. Ripeto dentro di me, sono rilassato, sciolto e concentrato. Ora faccio alcuni lunghi respiri e porto l'attenzione al mio petto, al torace. Vado a sé, i polmoni respirare in modo bello, sano e naturale. Inspiro ed espiro. Ad ogni mio respiro, il mio cuore pompa. E ripeto dentro di me, sono rilassato, sciolto e concentrato. Ora porto la mia attenzione alla bocca dello stomaco, allo sterno. E faccio un lungo respiro, che arriva fino alla pancia. Respiro completamente con tutta la mia pancia. E lascio che tutti i miei organi possano respirare e funzionare in modo bello, sano e naturale. Ora porto la mia attenzione alla schiena, alla colonna vertebrale. Sentiamo la schiena appoggiata sulla sedia. E vi invito a respirare nella vostra schiena. Sentirete la schiena muoversi ad ogni ispirazione ed espirazione. E io sono rilassato, sciolto e concentrato. Ora rilasso completamente le mie braccia e le mie mani. Faccio un lungo respiro e ripeto dentro di me. Sono rilassato, sciolto e concentrato. Ora porto la mia attenzione al bacino, ai glutei, alle anche, ai miei genitali, all'ano, ai femori. Rilasso completamente il mio bacino, respiro e ripeto dentro di me sono rilassato, sciolto e concentrato. Ora sento le mie gambe, le cosce, le ginocchia, le gambe, le caviglie. Arrivo fino ai piedi. Sento l'appoggio dei piedi sicuro e comodo. Ora rilasso completamente le mie gambe e pongo i miei piedi in uno stato di comodità e di sicurezza. E ripeto dentro di me sono rilassato, sciolto e concentrato. Ora tutto il mio corpo è completamente rilassato. Faccio alcuni respiri profondi, con la bocca socchiusa. E vi invito a portare la vostra mente fluttuante in una scena della natura. Una scena in cui vi sentite a vostro agio, al sicuro. Un posto guaritivo, in cui potete immergervi con tutti i vostri sensi. Con immagini, suoni, odori e sensazioni chiare. Vi invito a immergervi completamente con la vostra mente in questa scena della natura. Grazie. 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 E lì, in questa scena, vi invito a trovare una posizione comoda. Create davanti a voi uno schermo. Costruite uno schermo. Come se fosse uno schermo del cinema. Create le cornici. Colorate le cornici di questo schermo. E vi invito all'interno di questo schermo a proiettare il vostro obiettivo. Immaginate che il vostro obiettivo è stato realizzato. Immaginatevi ad obiettivo raggiunto. Portate attenzione alla vostra scena del vostro obiettivo realizzato. E vi invito a scrivere questa scena la vostra frase. Quella frase che avete scritto. Mi invito a fare qualche passo indietro e a guardare la vostra immagine, il vostro obiettivo raggiunto e la vostra frase chiara e definita. e vi domandate cosa sento mentre vedo questa immagine in questo momento. Che sensazioni, che emozioni ho proprio in questo momento. vi invito a fare un lungo respiro vi invito a fare qualche piccolo sentimento con il corpo sempre ad occhi chiusi cominciamo a sentire le mani a sentire i piedi conterò da uno a cinque e al numero cinque aprirete gli occhi 1 ascoltate il vostro respiro 2 ascoltate il vostro bisogno di naturalezza spontaneità e creatività 3 ascoltate il suono intorno a voi e la mia voce 4 fate alcuni respiri profondi 5 aprite gli occhi con calma fate qualche piccolo movimento con il corpo per risvegliarlo riprendiamo contatto con calma e vi invito un minuto a testa a condividere con la persona che avete vicino la vostra esperienza per condividere qual è il vostro obiettivo e qual è l'esperienza che avete fatto se siete riusciti un po' a rilassarvi ad avere un'immagine oppure no piccolo minuto di condivisione va bene vedete in tre anche siete dispari concludiamo sintetizzando o no concludiamo così sentiamo qualche testa in magnanza e se c'è qualche domanda un po' a rilassarvi 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 bene qualcuno di voi vuole dare un feedback sull'esperienza come è andata per voi sì sì quindi sicuramente ti sei rilassata insomma sicuramente ho cominciato a sognare addirittura bene quindi una cosa conosciuta già ti rilassi facilmente certo quindi cosa abbiamo fatto come cioè ok quindi cosa abbiamo fatto abbiamo creato un momento di autoascolto cosa significa mettersi in una posizione di ascolto è fondamentale deve essere una posizione di allineamento una posizione di appoggio anche di piedi quindi dobbiamo stare comodi è fondamentale la respirazione quindi questi sono degli strumenti importanti da cui parte un ascolto che è proprio ideutico poi a tutte quelle domande a quel progetto che abbiamo bisogno di costruire e quindi di andare a motivare abbiamo rilassato il corpo dalla testa ai piedi siete riusciti a rilassarvi un po' da quello che sto sentendo o sì alcuni di voi mi sembra di sì quindi questo rilassamento questo rilasciamento che può sembrare una forma di addormentamento poi ovviamente non ho attivato troppo perché dobbiamo andare anche e sera dobbiamo andare anche a dormire però questo rilasciamento iniziale è propedeutico alla possibilità poi di poter attivare in un modo diverso il nostro corpo cioè con un corpo che è meno teso che è quindi più morbido e questo è fondamentale dopodiché vi ho invitato ad andare a immaginare una scena della natura la scena andare a immaginare la natura è sempre per la nostra mente importantissima perché va a fare una pulizia a livello energetico straordinario cioè la mente si rilassa profondamente quando è in ambienti naturali e quando immagina ambienti naturali e da lì a un certo punto vi ho chiesto di immaginare il vostro obiettivo raggiunto quindi questa focalizzazione questa visualizzazione di andare proprio a vedere il vostro progetto già realizzato con la vostra frase definita questi sono i passaggi strumenti per andare a coltivare quella motivazione intrisseca importante di sintonizzazione di allineamento interno per poterci poi andare ad azionare concretamente quindi andare a muovere concretamente dei momenti cioè quello che noi desideriamo ecco quindi questo per concludere non so se tu vuoi dire qualcos'altro sono in audio sì la cosa che ho sperimentato di questa tecnica su di me è che sono rimasto una mezza sega come atleta mi ha fatto diventare amico di me stesso e di trovare attraverso la ripetizione nella vita di questa tecnica nuove motivazioni e nuovi modi di interpretare non tanto l'obiettivo in sé ma di gustare immaginandolo il perché vi ricordate che vi ha chiesto il perché lo scopo è l'essenza di questo esercizio e gustarsi cosa significa per me mentre immagino e affronto nella mia vita sfide cambiamenti anche soluzioni di problemi richieste di aiuto quando non riesco è molto frustrante non riuscire ma facendo questo esercizio si ha il coraggio di essere umili e si faccia e non si molla la presa perché non ci si demoralizza cioè si sta ad attivare tutte le risorse quindi è proprio come ti senti con te stesso vivendo con questa modalità che richiede un po' di spiritualità è un esercizio di ritiro spirituale con noi stessi da scegliere in una vita quotidiana bombardata di cose che arrivano dall'esterno quindi la motivazione intrinseca è una sorta di contatto con la nostra anima questo è quello che mi sento di dirvi questa sera e fa bene al di là dell'approccio religioso ma stasera ci siamo un po' confrontati su questa semplice verità quindi grazie 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 a Giorgio grazie a Show Club a Vito a tutta la squadra che vi motiva io che cerco di stare con la motivazione con loro sono che sarei qui aver dedicato una serata a voi